Il San Silvestro a Villa Valier ti fa vivere un Capodanno da Doji. Marchioro Catering e Villa Valier presentano il Capodanno dei Doji, la festa più glamour in un elegante dimora del Cinquecento a Mira, Venezia. Vivi la magica emozione del nuovo anno con un tocco di autentica nobiltà. Una notte spettacolare in cui il divertente show di Josie Zenere, l'esibizione pilotecnica mozzafiato, musica, balli e babysitter per i più piccoli faranno da cornice ad un menù unico e delizioso. Una notte indimenticabile, il Capodanno dei Doji, a Villa Valier, Mira, Venezia. Info 049 809 50 57 o 334 971 57 26.